Musica Belli raga sono Ari Ancaci qua in questo nuovo video Molto veloce per come ottenere Le nuove mimetiche raga Che ci sono appunto nelle armi Nelle varianti delle armi Per precisare Mi sembra che potete anche sbloccare la dark matter Anche se a me non me l'ha fatta sbloccare Comunque per fare questo glitch Dovrete entrare nella lobby di un vostro amico E andare praticamente su un'arma Adesso vi faccio vedere un po' meglio Io nel mio caso ho preso la GKS Nelle mitragliette E praticamente fate start E restate fermi sopra rinomina A questo punto vi dite al vostro amico Di andare in partite personalizzate E vi si baggerà diciamo lo schermo Perché vi toglierà la selezione sopra rinomina A questo punto fate cerchio O se siete comunque su altre console Andate indietro Mi sembra comunque dovrebbe funzionare anche su Xbox A questo punto Fate X E mettete una variante appunto di un'arma A questo punto Rifate nuovamente start E restate sopra rinomina Gli dite al vostro amico di ritornare Diciamo nel multigiocatore Nel menu iniziale del multigiocatore E a questo punto vi si baggerà Come vedete Andate appunto sopra l'arma Adesso vedete E fate personalizza A questo punto vi darà queste mimetiche Reattivo e maestria Poi non ho capito bene come far funzionare Adesso guardate che mi mette il cavallo Tipo mi mette un'altra variante Probabilmente perché ho cliccato di sopra E mi ha fatto baggare un'altra variante Quindi raga vedete se ci riuscite anche voi Perché questa è molto bella Questa con il cavallino E niente raga Potete farvi le varianti per ogni arma Io sono a livello 20 Quindi non ho altre varianti Perciò mi scuso se non posso farvi vedere Altri tipi di varianti Comunque adesso vi faccio vedere che Mi salvo un'altra di queste armi Poi per salvare l'arma Mi basterà scendere di sotto Comunque vi copiate la classe In un altro slot E a quel punto sarete sicuri Che ve l'avrà copiata Per questo video raga è tutto Vi ricordo di iscrivervi Lasciare un bel like Bella Ciao a tutti 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 Ciao a tutti